Mentre editavo gli episodi precedenti, mi sono ricordata che noi abbiamo ancora un compito da fare, ovvero tornare in foresta d'estate e recuperare tramite l'abilità che abbiamo ottenuto qui, ovvero la scalata, le gemme e i minigiochi che ci mancano. Quindi direi di farlo subito. Io ho fatto un livello e mentre lo editavo mi sono ricordata. Vabbè, pazienza, ci andiamo adesso. Dove siamo finiti però? Ah, ok. Allora, facciamo così, andiamo. Completiamo prima foresta, proprio foresta d'estate. E ci si doveva arrampicare qua, se non ricordo male. C'era... ecco qua. Ricordavo la scala qui. C'è un'altra sfera. Eccola qua. Quindi le abbiamo ottenute tutte. Adesso vediamo se otteniamo anche tutte le gemme. Perfetto. Livello completato 100%. E adesso andiamo a vedere Spiaggia del Sole, che ci mancava. sempre per l'abilità scalata. E qui ci mancano anche delle... delle sfere, quindi probabilmente c'era un minigioco che non avevamo fatto. Allora... Devo ricordarmi dove era. Forse era qui una. Ecco, qua c'era... Una scala. Gemme. Uh, qua ce n'è una! Questa? Cioè, l'avevo proprio lasciata qui. Aspetta, eh, che non ho controllato bene. Non ne voglio perdere nient'altro. Questa è quando faccio le cose di fretta. Di qua c'è un'altra. E va bene. E... Poi ce n'era una più avanti, no? Dove vai? Vieni qua. Ok. Aia! Ma, mi scusi, si levi da lì? Non riesco a passare. Ecco, mi fa pure cadere. Aia, due! Ma... Oggi sono ubriaca, non riesco a comandare Spiro. Forse era qui? Aia! Sono rimasta senza Sparks. Non ci credo. Comunque, era questo, mi sa. Ciao, giovanotto. In cima alla scala c'è un cuoco che vuole fare una zuppa con le nostre tartarughe. Perché non ti arrampichi e non lo fermi? Va bene. Siccome ci manca solo questo, immagino che sia una doppia sfida. Sembra che con le tue amiche tartarughe si possa fare una zuppa deliziosa. Se le prendo. Puoi provare a salvarle, ma ti avverto che ho fame davvero. Wow. Tira fuori le tartarughe dal calderone. Difficoltà due. Cioè... Tira le fuori. Ah, non devo farle andare, forse. Spongiamole di là. Uh. Ecco, io questo... Già non riesco a comandarlo con questa visuale. Per me è terrificante. No! No, non penso di riuscirci. È terribile la visuale così. Vai di là. Aspetta, aspetta, mancava questa. Vai. Ah, ok, perfetto. Sei riuscito a salvare qualche tartaruga. Qualche? Tutte? Prendi questa sfera e vattene. In che senso vattene? Mi hai appena detto che ce ne sono altre. E poi mi manca una sfera, quindi... Doppia sfida. Devo... Devo entrare? Devo parlarti? Ah, ok. Difficoltà cinque? Sì, ciao. Già era difficile questo che non riuscivo a fare. Adesso mi metto subito qua. No? L'uscita? Eccola. C'è un'altra. No! Mancata! No, no. Piano, piano. Andate troppo... Un po' veloci per i miei gusti. No! Aspetta, perché non sei entrata, però? Aspetta, allontaniamole un attimo. Via! Via da qui! Che cavolo! Via! Cioè, ma guardale! Però sono abbastanza stupide, comunque. Aspetta, aspetta. Fammela allontanare. No! No! Levatevi! No, no. Via! Via, via, via! Oh, ma non riesco a beccarle! Cioè... No, 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 no. Ecco. Un'entrata dentro. Riproviamoci. Non è facile. Non è assolutamente facile, sto gioco. È terrificante. Quelle che ti escono qui, soprattutto. Vedi, poi non entrano e le devi rincorrere. E qua. Queste che arrivano da qui mi danno un fastidio. Perché non riesco a mandarle subito lì. Allora, vieni qua. Ok. Beh, poi la devo rincorrere. Vieni qua. No, no. Aspetta un attimo. Dai, dai. Non riesco a beccarla. Sono troppe. Sono veramente tante. È complicato. Vedi, non riesco. Aspetta, eh. Aspetta lì. Basta, basta. Quante me ne sta mandando? Dai che non riesco. Vieni qua. Ok. E qui anche tu. Spero sia l'ultima. Oh, perfetto. Perfacco. Hai salvato tutte le tartarube della spiaggia. Hai visto? Prendi questa. Volevo comprarci delle patate, ma ora non ne ho più bisogno. Ok. Volevi scambiare una sfera per delle patate. È inquietante questa cosa. Bene. Mi manca qualcosa. Adesso c'è qualcosa. Qua cosa c'è? Ah, gemme. Ecco, non ho sparks, quindi le devo toccare per recuperarle. Manca una. Sì. Oh, perfetto. Livello completato. E direi di uscire così. Che facciamo prima? Buona la zuppa di tartarughe, vero Spiro? Ma noi le abbiamo salvate. E poi ci manca il primo livello, ovvero Barlume. che anche lì bisognava recuperare forse delle gemme. No, non mi ricordo cosa c'era sulla scala. Adesso lo vediamo subito. Ma forse anche qui mi mancava una sfera. C'era un minigioco da fare. Sì, esatto. Anche un minigioco. Quindi è molto probabile lì sopra ci sia un minigioco. Allora, era di qua. Nella grotta. Ecco qua. Su. Ah, mi servono dieci nemici per attivarlo. Abbiamo collocato alcune lampade delle gemme in questa grotta, ma è ancora più difficile mantenerle accese. Ti serve decisamente il potenziamento libellula per accendere le lampade. Ok. Scusa, fammi vedere. Ah, è come il gioco che c'era fuori. Allora, intanto mi recupero. Io sono senza sparks, non me lo ricordavo. Allora. Devo tornare indietro. Qui c'erano dei nemici, sì. Sono a cinque, quindi me ne mancano cinque. Vedi di non morire, ti prego. In qui? Dove vai? Guarda, faccio in un altro. Otto. Vediamo giù se ce ne erano ancora. Forse è qui sotto. Uno. Nove. E dieci. Perfetto. Tra l'altro mi mancano delle gemme, perché quelle che ho recuperato non sono tutte. Forse si può arrivare da qualche parte con il potenziamento. Ok, allora facciamo il minigioco. Accendiamo ancora tutte le sfere qua. Sì, le sfere, buonanotte. Ah, ecco le gemme. Tutte le lampade. Perfetto. Non c'è problema. No, figurati. Sì, molto intelligente, devo dire. Fammela conoscere questa persona. 3 su 3. E adesso recuperiamo quelle gemme lì. Partiamo da qua. Ok, queste 3. Perfetto. Livello completato e usciamo. in malo modo. Ecco qua. In teoria. Controllo un attimo sulla guida. Perfetto. In foresta d'estate abbiamo tutto al 100%. Perfetto. Bene. Quindi possiamo tornare in pianura d'autunno che... Aspetta che mi prendo... Mi dà fastidio vedere sparks verde. Se riesco, perché sono abbastanza impedita. Ok. No, basta. No, no, non ti voglio parlare. Allora, dovrebbe essere... Qui? Eccolo qua. Foresta d'estate completata al 100%. Ok, eccoci qua. E mi vado a posizionare davanti al livello che dovevamo fare. Ovvero, calanchi di Schelos. Grazie a tutti.